Ovviamente non poteva mancare il sindaco di Nicolazio a fare i nostri complimenti per aver preso possibile questa giornata nel senso della raccolta moderizzata. La giornata ha reso possibile il consorzio, noi siamo stati dei modesti, certamente ci abbiamo messo l'impegno e tutta la tensione, siamo contenti del risultato, voleva, l'abbiamo analizzata perché abbiamo intenzione di fare i salieri di serie per trattare la comunità in Venezia, dirò che il consorzio ha fatto un'analisi estremamente seria e non male e precisa della situazione, se questo dice che io non c'è preso, lo abbiamo studiato, lo ha volato credo che a giorni firmeremo anche questa letteratura, che avrà una durata di 4 mesi. Grazie. 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 Grazie.